Ciao a tutti voi da Rosi e benvenuti a questo appuntamento che come vedete dalle immagini intorno a me è molto particolare. Adesso parleremo di qualcosa che potrebbe davvero convenire. Infatti siamo in compagnia di Restaurare Conviene e accanto a me è Emidio, il responsabile commerciale. Ciao Emidio. Ciao, bentrovati. Allora, mi presento velocemente quello che facciamo principalmente. A Restaurare Conviene nasce tanto tempo fa. Nasce da un'idea molto semplice che abbiamo mantenuto nel tempo, che è quella del restauro delle persiane. Quindi, cioè, persiane malandrate, scolorite, marce, cioè noi siamo in grado di ripristinarle come? Con una tecnica molto semplice, molto impegnativa, porta via tempo, però il risultato parla da solo poi. Quindi, cosa consiste? Consiste nel fare un sopralluogo. Il sopralluogo viene fuori un tecnico. Ah, una cosa, non ci sono rappresentanti qui. Cioè, chi esce è un tecnico che lavora in bottega, quindi viene fuori e ha l'occhio veloce per capire subito quello che c'è da fare. Una volta presi, diciamo, tutti gli accordi, poi si passa alle fasi di smontaggio e lavoro in sé. Certo, quindi se io chiamo il numero verde che c'è qua in sovraimpressione, naturalmente prendo contatti con voi e voi uscirete a fare questo preventivo. Assolutamente, funziona che voi chiamate il numero verde, ci sono dei ragazzi specializzati nel coccolare, chi chiama, ascoltano, prendono i dati e fissano un appuntamento. Perché, rimarco questo, l'appuntamento deve essere a casa, perché ogni situazione è differente. Cioè, le persiane bisogna vederle, bisogna toccarle, dobbiamo toccarle proprio, vedere in che stato sono, da A alla Z. Solo così noi possiamo farvi un preventivo gratuito, senza nessun impegno, se non quello di ascoltarci con un bel sorriso e un caffè di cortesia. Questo è quello che chiediamo. Poi, noi vi possiamo elencare una serie di cose molto belle, a partire dalla possibilità di poter dilazionare questo tipo di lavoro, che vi assicuro che non offre nessuno, fino a 84 mesi. E quindi c'è veramente tanta roba. Per chi ci chiama, sfruttando, diciamo, questo spot televisivo, offriamo uno sconto vero. Sì, assolutamente, del 30%. Quindi tu ci stai mettendo la tua faccia e quindi, ecco, mi sembra molto importante. Il sconto non è su questo lavoro sì, su questo no. Sul totale si fa il totale e da lì c'è un 30% secco. Il 30% è, cioè, vi sconto, il 30% del lavoro che faccio a sgrezzare le vostre persiane. Il 30% sulla vernice, sulla squadratura, su tutto, insomma, sul trasporto, su tutto. Quindi, cioè, voglio dire, è uno sconto vero. Quindi io vi invito davvero a chiamarci. Ma anche solamente per farvi un'idea, che magari avete, non so, voglio farlo l'anno prossimo. Approfittate, ascoltate, vedete. Cioè, insomma, male non fa. Perché comunque un esperto che si mette a disposizione, gratuito, tanta roba oggi. Direi di sì, anche perché magari, ecco, ne parlavamo prima di iniziare la trasmissione, magari al tuo occhio esperto possono venire fuori dei problemi sul legno che magari uno non vede. Sì, lo vede, che è un po' rovinato, perché se ti chiama, chiaramente, la persiana o il legno ha dei problemi. Però magari non vede all'interno? No, ma non vedono. Cioè, tante volte ci troviamo dove dicono, no, no, queste sono belle, queste sono da dipingere. No, 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 noi non siamo quelli che dipingiamo le persiane, noi le restauriamo. Quindi, prima dobbiamo togliere tutto quello che c'è, fino a portarle a stato grezzo, fiammifero, così, nudo. Dopodiché analizziamo se ci sono delle riparazioni da fare, se, insomma, se tutto lavoro è fattibile. Da lì si riprocede, al contrario, quindi si fanno tutti gli isolanti, squadratura, spinatura, alla fine la verniciatura. Dopodiché si riportano a casa, belle, perché di solito riceviamo bei complimenti. Qui vediamo come si presentano varie situazioni. Diciamo, quella che magari vi colpisce anche per colori è questa. Allora, qui abbiamo una persiana, tre fasi, come di solito le troviamo, come le prepariamo e come viene finita. Però, attenzione, tante volte non si va a guardare a fondo, ma se guardiamo questo angolo in basso, non so se riesce a riprenderlo bene, perfetto. In questo caso abbiamo una zona marcia, quindi qui noi dobbiamo fare un intervento vero e proprio di risanare. Quindi verrà tagliato via proprio il pezzo, questo andrà sostituito, questo viene tagliato via e ricostruito. Qui vediamo invece una coppia di persiane della stessa casa. Non guardate che una è un po' più alta e una è un po' più bassa. È la stessa casa. Una cosa che noterete è che questa pende tutta di qua. Quindi cosa vuol dire? Che ha ceduto dalla zona verso il davanzale, va ad appoggiare giù. Quindi questo è il lato cerniere, il lato davanzale appoggia giù e ammarcisce e va a fare la fine di quella lì. Ma ciò che ci tenevo era vedere il risultato finale di come viene un manufatto dopo un restauro. Eccolo qua. Prima e dopo. E qui potrei farvi mille esempi, però questo è quello più lampante. Cioè quando vedete che siete a questo stato, non improvvisatevi con prodotti scadenti. Non fate quelli che si affidano, non lo so, a gente non competente. Perché rovinate, andate a far morire il legno. Chiamateci che risolviamo il problema. Perfetto. E sembra assolutamente nuova. E questo mi sembra molto importante, mantenere le vostre persiane. Magari avete anche una casa dove ci sono questi infissi in legno, i portoncini. Ecco, per adesso stiamo parlando di persiane. Ma naturalmente questi lavori si possono eseguire anche sui portoni, anche sui portoni importanti. Allora qui parliamo, come dire, in grande. Immaginate di ingigantire. Quindi un portone, che ne so, alto 5 metri. Andate a Milano, andate in una città, vedete questi bei portoni. Ecco qui, noi non possiamo portarli via, per logica. Ma mandiamo fuori delle squadre specializzate e hanno proprio esperienza profonda nel trattare questi legni antichi, pregiati, che hanno una storia. Quindi il procedimento è lo stesso, viene sgrezzato sul posto, quindi è un lavoro molto duro, molto faticoso. Viene trattato e viene poi rifinito. Cioè che, insomma, viene fuori un bel lavoro. Questo parlo di quei portoni e anche delle chiese, per intenderci. Cioè, insomma, questi lavori un po' molto vistosi, che creano il bigliettino da visita delle città e dei quartieri. Sì, assolutamente. A me poi piace girare le città, vedere questi portoni veramente importanti. Prima hai usato una frase che mi è piaciuta molto, perché parlavi di portoni che hanno un'anima. Perché il legno comunque ha un'anima, perché risale ad altra epoca. Se noi pensiamo che un portone, mediamente, ha 200 anni. Quindi pensate quanta gente è passata di lì, la storia, ha passato le guerre, ha passato di tutto. Noi l'unico tocco che gli diamo oggi rispetto ad allora, gli diamo una finitura in rame o in ottone sotto, perché oggi ci sono le auto, che una volta non c'erano, che schizzano di tutto, e per dargli una finitura, diciamo, in chiave così. Certo, anche per proteggerli un po' di più e farli durare nel tempo. Ecco, questi lavori parlavi appunto di farli in loco, perché? Perché avete delle vere e proprie officine mobili, cioè dei furgoni che girano e possono fare questo lavoro. Sì, beh, il lavoro lo fa l'uomo. Quindi, diciamo, l'uomo guida un'officina mobile. Allora, diciamo che l'arte sta nella persona. Se non ha dentro l'arte, non può farlo. L'officina mobile, perché sul furgone abbiamo proprio tutto l'occorrente, quindi tutti gli attrezzi occorrenti per intervenire, anche per le garanzie, che poi magari ne parliamo un attimo, ma proprio per eseguire questi lavori. Sono attrezzati di tutto punto. Le garanzie, appunto, ci arrivo da solo, cioè non è il classico foglio di carta, pergamena, 24 mesi, no. 24 mesi sì, perché per legge. Ma la nostra è una garanzia che è un'assistenza, che dura 24 mesi. Cosa vuol dire? Che se c'è un problema, può succedere, ci chiamate, usciamo, arriva uno dei nostri attrezzi mobili, così, officine mobili, e noi, se si può riparare sul posto, subito lo facciamo. Altrimenti, portiamo via, ripariamo, riportiamo a casa. Perfetto. Quindi abbiamo parlato di infissi, di portoni, anche importanti. Parliamo anche di vetri, perché potete fare anche questo. Allora, come vetro si intende che si fa una trasformazione, cioè da un infisso, immaginate quei vecchi infissi con lo stucco ancora, ecco, in quei casi lì, noi portiamo via, via lo stucco, logicamente, viene lavorato per creare una sede per montare un vetro di epoca attuale, quindi un doppio vetro, di uno spessore in base a serramento, dopodiché viene rifinito, verniciato, isolato, cioè, insomma, viene un bel lavoro. Assolutamente sì, e tenete conto che se avete diritto alle detrazioni, naturalmente vi seguiranno anche in questo. Sì, gli eventi di diritto hanno la possibilità di detrarre il 50% della spesa, quindi anche lì tanta roba. Sì, assolutamente sì, quindi il mio consiglio è quello di prendere nota subito del sito internet, del numero di telefono, ecco, un numero verde, quindi gratuito per voi, che vi può dare l'opportunità, chiamando, dicendo di aver visto questa trasmissione, chiedendo un preventivo gratuito. In cambio di un solo caffè, avrete l'opportunità di avere, come abbiamo detto prima, ben 30% di sconto, quindi mi sembra molto importante. Sì, ecco, ripeto, bisogna effettuare un sopralluogo, non possiamo lavorare con delle foto, non possiamo lavorare con delle misure, dobbiamo proprio uscire. A nostro carico lo facciamo volentieri. Basta che ci ricevete, vi fate trovare, ecco, tutto lì. Mi sembra importante, poi è importante anche da dire che voi portate via questa parte, che è la parte mobile, quindi non fate nessun lavoro, sull'eco, che è importante. No, il telaio non lo portiamo via, escono sempre queste persone che fanno i portoni e fanno i telai sul posto. Quindi, mentre sono via le persiane, quindi nel frattempo che le stiamo lavorando in bottega, se avete preso accordi anche per fare i telai, ve li facciamo sul posto. Perfetto, ci fanno segno che dobbiamo concludere, perciò l'invito è quello ancora di chiamare, naturalmente. di chiamarci, numero verde, noi siamo a vostra disposizione per venire a farvi una visita, naturalmente senza impegno. L'impegno c'è, come ho già detto in altre occasioni, un bel cafferino di cortesia. La possibilità di rimettere a nuovo le vostre persiane e godere ancora di un manufatto in legno che sicuramente ha più anima, ha più bellezza rispetto a PVC, plastica, insomma, o alluminio. Però io sono un amante del legno, ci sono cresciuti in mezzo e quindi cioè, io sono per... è come il parquet, lo rifaccio, non lo cambio. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao, ciao Emilio. Ciao.